Ssh! Seduto! Seduto! No, non tu, Frank, no, no. Senti, Frank, se posso dirtela tutta, io credo che sarebbe un errore rinunciare. Perché, Frank, per tutti questi anni tu mi hai ispirata con le tue splendide parole. E io credo che... Ssh, cane, sono al telefono! Credo che sia giunto il momento che anche il mondo ne goda. Sono talmente ricche di... Passione! E io credo che tutti noi dovremmo beneficiarle. Frank, ecco io! Ecco io! Voglio che tu sia felice, Frank! Dammi quel cane! Ti chiedo, ti chiedo solo di aspettare un secondo, puoi aspettare un secondo. Dammi quel cane! Mallalo, mallalo, mallalo! Ok, preso. Frank, Frank, Frank! Scusami, 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 mi era caduto il telefono. Eh, senti, Frank, io non voglio, non voglio convincerti di niente, ma è il tuo capolavoro questo libro. E credo che aspetti a te presentare il tuo capolavoro al mondo. E chiamami domani quando avrai deciso. Ho il telefono sempre acceso! No, aspetta! Frank! No, 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 no. Prendi lui, lo vuoi il cagnolino? Mi serve il telefono, prendi lui! Prendi lui, lo vuoi il cagnolino? Prendi il cagnolino, prendi lui, prendi lui, prendi lui, prendi lui, prendilo, prendilo! Ma guardala! È carina, vero? Tanto! Buongiorno!